Ciao da Santa Cristina in Val Gardena dove si è appena conclusa la tappa del Giro E che ripercorre gli ultimi 40 chilometri della tappa del Giro d'Italia. Abbiamo scalato oggi Passo Pinei e poi questa ultima inedita salita a Montepana, questi due chilometri con pendenze sempre in doppia cifra che da Santa Cristina portano in cima a questo arrivo veramente scenografico. Nonostante oggi le condizioni in realtà poi non ci abbiano consentito di vedere troppo bene il paesaggio, condizioni che qualcuno definirebbe da zona Omar, pioggia, grande freddo e in questi casi ovviamente diventa ancora più importante avere un mezzo perfettamente in ordine, quindi una bicicletta tirata lucido e soprattutto con i giusti pneumatici. Oggi ho utilizzato i Grand Prix 4 Season di Continental proprio perché aumentano quello che è il grip in condizioni di bagnato, in condizioni quindi di asfalto molto scivoloso. Il tutto ovviamente grazie anche ai freni a disco che ormai sono in dotazione su tutte quante le nuove biciclette moderne e che danno la possibilità di modulare ancora meglio la frenata e quindi di goderci anche in condizioni di pioggia, anche in condizioni di bagnato, il piacere di un giro in bicicletta. Sicurezza che è fondamentale ed è per questo che cerco sempre di sensibilizzare i miei colleghi ciclisti, amatori e professionisti affinché venga fatta sempre la giusta manutenzione al mezzo meccanico, quindi sempre pneumatici e ruote in ordine, verifica sempre di tutti quanti i componenti e poi usciamo in strada e andiamo a goderci le strade, in questo caso le strade del Giro d'Italia. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Autore dei sorrisi